Urbino Capoluogo torna nella sua nuova sede a riunirsi, l'argomento è quello attuale, dei vaccini. Due consiglieri regionali, un bel confronto, un bel dibattito e anche delle risposte. Sì, io ringrazio molto il dottor Giorgio Cancellieri e la dottoressa Michaela Vitri, i nostri due rappresentanti in regione, perché hanno riconosciuto, hanno ringraziato l'associazione per il lavoro che facciamo verso i cittadini. Devo dire che loro hanno grande disponibilità, sono anche iscritte alla nostra associazione e mi pare che sia stato un dibattito molto, ma molto interessante e che attraverso voi della televisione e gli altri strumenti di comunicazione i cittadini potranno essere aggiornati sui problemi che abbiamo trattato. Ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte, prossimi incontri in programma quali saranno? Intanto io credo che noi abbiamo tre filoni, il filone della sanità, perché la gente interessa la salute, poi la gente interessa il lavoro, abbiamo già fatto diversi incontri, poi la cultura. Prossimamente presenteremo un libro che parla di Urbino e il Montefeltro, sarà un libro molto, ma molto interessante perché i protagonisti sono sei giovani del Montefeltro con un libro scritto 33 anni fa, ma pensate di un'attualità straordinaria. Presenteremo quel libro, poi faremo un ulteriore incontro per quanto riguarda la sanità, un ulteriore incontro sul lavoro perché credo che questi siano i temi che interessano la gente. La campagna vaccinale prosegue nella regione Marche che si posiziona in un'ottima classifica. Si è parlato però anche dell'implementazione delle dosi da somministrare nel centro vaccinale di Urbino, 100 in più è la capacità massima? Sì, intanto siamo attualmente, quindi l'ultimo dato praticamente fornito dal Ministero, siamo la prima regione in Italia, abbiamo superato il Venetro tra dosi consegnate e dosi somministrate. Siamo intorno al 90% di somministrazione rispetto alle dosi consegnate, però possiamo fare di più e possiamo fare di più anche nel nostro territorio. Vacciniamo circa nel nostro punto vaccinale 440 persone al giorno, abbiamo però una potenzialità superiore ai 500 vaccini al giorno nel punto vaccinale di Urbino, se però ci verranno consegnate le dosi. Ed ovviamente purtroppo perdiamo anche delle vaccinazioni perché con tutta la campagna che è stata fatta nei confronti del vaccino AstraZeneca, molti delle nostre persone che vengono a vaccinarsi nel punto di vaccinazione qui a Urbino tornano indietro perché non si fidano più del vaccino AstraZeneca. Quindi è ovvio che in questa fase più vaccini Pfizer, Moderna arrivano e più è facile per noi alzare i numeri che sono però rispetto molto molto importanti e molto elevati. Tra l'altro vacciniamo anche all'ospedale d'Urbino ed anche all'ospedale di Fossombrone dove vacciniamo circa 80-100 persone al giorno, quindi a questi 440 si aggiungono quei numeri lì sull'ospedale d'Urbino di Fossombrone e poi c'è tutta la vaccinazione che sta facendo i medici di medicina generale. Insomma questo è. Quindi il territorio con tutti i suoi operatori sanitari che ringrazierò sempre fortemente sta facendo uno sforzo enorme per cercare nel più breve tempo possibile di vaccinare più persone e raggiungere quell'immunità di gregge che ci darà anche la possibilità di far ripartire tutta la nostra economia e tutte le nostre attività che in questo periodo hanno sofferto tantissimo e poverini li capisco e mi dispiace molto. Infatti auspico che in futuro nelle prossime settimane si possa allentare un po' di più questa possibilità di dare lavoro, di dare opportunità di lavoro alle nostre categorie perché è ora veramente. Consigliere, lei è anche medico, medico di medicina generale e questa mattina ha portato anche quelle che sono le problematiche di stress che il personale sanitario sta vivendo in questo periodo. C'è bisogno di implementarlo sicuramente? Guardi, questo è un grosso problema perché purtroppo c'è una carenza di personale sanitario e parasanitario enorme su tutte le strutture. Evidentemente da più di un anno stiamo utilizzando sempre lo stesso personale che è molto molto stressato e molto stanco perché si è ritrovato a dover gestire questa vicenda Covid già in carenza di personale nell'ordinario cioè in tutto quello che la sanità doveva dare prima quindi figuratevi, eravamo in carenza di personale prima per l'ordinario, adesso con tutto l'ordinario da fare e la gestione del Covid sopra, ripeto i miei colleghi, il mondo legato agli operatori sanitari è, ripeto, estremamente stanco e bisogna continuare a ringraziarlo perché noi chiediamo sempre agli stessi di fare prestazioni disumane e al di sopra proprio delle possibilità fisiche e psicologiche di queste persone e quindi grazie per quello che fate veramente ma voglio ringraziare anche il mondo del volontariato che supporta molto nei punti di vaccinazione, che supporta molto gli operatori sanitari se non ci fossero anche quelli, penso alla protezione civile, alla Croce Rossa, insomma a tutto quel mondo dell'associazione dei volontari che comunque danno un grande supporto in questa vicenda sanitaria ed umana è una situazione estremamente difficile. Consigliera, qual è la situazione? Ha evidenzato diversi punti dai trasporti alla campagna vaccinale? Sì esatto, fortunatamente l'associazione Urbino Capoluogo continua ad essere presente su tutti i temi che interessano da vicino i cittadini e la campagna vaccinazione sta proseguendo a ritmo abbastanza spedito, devo dire, rispetto alle forniture, siamo circa all'89%, il problema però è soprattutto secondo me organizzativo, nel senso che noi abbiamo già richiesto da tempo di aumentare i punti vaccinazione, sono solo tre nella nostra provincia Pesaro, Fanno e Urbino e rimane inconcepibile che da Cantiano, Borgo Pace, Sasso Corvaro si debba fare un'ora di macchina per essere appunto sottoposti a vaccinazione oltre a questo ci sono stati gravi disagi anche all'inizio tra le diverse categorie e ancora oggi dobbiamo vedere l'ennesima scelta che purtroppo ci lascia perplessi, perché solo nella nostra regione attualmente si stia vaccinando la fascia 65-70 anni, è inspiegabile, in tutte le altre si parte dai 60 anni e anche questo visto che ora i vaccini ci sono sarebbe da rivedere, dovremmo allargare invece che restringere, credo che quindi a livello organizzativo la regione debba essere più presente e fare in modo che la campagna vaccinazione non lasci indietro non lasci indietro nemmeno le categorie più esposte come è stato fatto inizialmente spero quindi che al più presto la regione si attivi perché mi è sembrata quasi inaccettabile il fatto che nella provincia di Macerata, nell'entroterra, sia stato inaugurato con tutti gli onori il punto vaccinazione di Amandola in un ex ospedale e da noi invece non sia stata ancora presa in considerazione l'eventualità di aprirli al più presto nonostante i contatti anche in diversi comuni dell'entroterra. Il tema dei vaccini è molto delicato e anche di grande interesse, lei anche come esperto del settore quali spunti ha trovato che possono essere interessanti per il pubblico oggi? Intanto che bisogna vaccinarsi e non guardare al vaccino che c'è, i vaccini vanno tutti molto bene, al di là di che alcuni che possono coprire di più, alcuni di meno, ma non ci sono di… poi qualche incidente di percorso su un milione di persone può capitare, però non vaccinarsi ovviamente comporta molto di più. Il vaccino ci dà una sicurezza, la sicurezza deriva dal fatto che non ci ammagliamo gravemente, non andiamo negli ospedali e quindi quando uno è vaccinato non rischia, può rischiare una malattia molto più semplice. È bene vaccinare soprattutto le persone debole, gli anziani e questa iniziativa è stata fatta a questo proposito per informare intanto la cittadinanza di quello che sta facendo la nostra azienda sanitaria, la regione in materia di vaccini e continuare a sensibilizzare la gente e sperando che i vaccini se li diano perché vedo che ogni tanto mancano.